Salve, siamo i ragazzi del BookBlog. Secondo lei se è difficile promuovere la curiosità, l'intelligenza e l'amore verso il bello in una dittatura o in un totalitarismo, come mai questo sembra irrealizzabile in una repubblica parlamentare come quella italiana? Come è realizzabile? Io spero che si possa realizzare ovviamente. Credo che sia realizzabile in una dittatura, in un regime totalitario, ma speriamo che in Italia sia ancora realizzabile, in Europa, dove era tra i pilastri del discorso dell'unità europea. Quindi speriamo, spero per voi. Come mai crede che i ragazzi si stiano allontanando così tanto dagli studi classici? Perché glieli fanno male. Io sono convinto che se glieli facessero bene, facendogli leggere gli autori e facendogli comprendere come siano loro, poi a dover diventare classici e non che sia una venerazione del classico, penso che si possano ancora appassionare. Grazie.